Allora riprendiamo da questa tabella, questi sono gli oggetti che dicevamo che fanno parte di questo package Java.Time, gli oggetti principali, vediamo un po' come si usano soprattutto alla luce della loro immutabilità. Un oggetto immutabile è un oggetto che non ha setter e di solito ha bisogno di un po' di aiuto per essere creato in certo senso. Allora ci sono vari tipi di metodi che prendono in modo uniforme sulle varie classi, traggono il loro nome da queste tipologie di metodi. Allora questo qua non è esattamente il metodo of che c'è su una certa classe, sulle varie classi ci sono varie varianti del metodo of, però come principio generale possiamo usare questa tabella. Che dice? Quando ho un metodo di tipo of crea un'istanza di un nuovo oggetto che in qualche modo prende già dei campi, li valida ma non deve fare nessuna conversione. Quindi di fatto è quando io creo una data a partire da anno, mese e giorno, creo un oggetto con of. localdate.ov 2017.05.29 La data di, proviamo a tradurre l'ov, la data di 29 maggio 2017. E' chiaro che lui dice li valida gli input, non posso scrivere 42 come mese, però non deve fare la conversione, deve fare il parsing di una stringa secondo formati diversi. Cioè i dati li ha già, deve semplicemente costruire l'oggetto. Diverso è il metodo from, dice guarda io, il metodo from sarebbe costruire un nuovo oggetto, ma questo può darsi che nel farlo io perda dell'informazione dall'input. Cosa vuol dire? Io potrei avere un local date time, che quindi è la data, l'ora, minuti, secondi e vorrei lo convertire solamente in un local date. Allora potrei creare un local date oggi, from, punto from e gli passo un local date time. Gli do un oggetto che ha più informazioni di quella che l'oggetto creato, che sto creando, contiene. Quindi of crea un oggetto con le informazioni date, from crea un oggetto a partire da informazioni date, ma non le usa tutte, può non usarle tutte. Oppure ho il metodo parse, che come dice il nome, parte da una stringa e cerca di costruire un oggetto analizzando il contenuto della stringa. Tutti questi sono metodi che qui chiamano static factory, quindi sono metodi di factory, quindi creano nuovi oggetti statici, cioè chiamati direttamente sulla classe. Quindi sarà local date.of, local date.from, perché visto che sto creando un oggetto, l'oggetto non ce l'ho ancora su cui chiamare il metodo, allora chiamo un metodo statico definito a livello di classe. Gli altri metodi invece sono metodi di distanza, cioè che si chiamano sull'oggetto che ho già. Ad esempio il format è esatto contrario del parse, però mentre il parse parto da una stringa e creo un oggetto analizzando la stringa, e quindi questo oggetto è un metodo statico, invece quando voglio fare il format, quindi convertire la data, il tempo in stringa, ho già l'oggetto da convertire. E quindi chiamerò il metodo format sull'oggetto local date, sull'oggetto local time, sull'oggetto local date time. Il metodo get restituisce una parte dello stato dell'oggetto, quindi get year, get month, get day, da un local date mi dà i singoli componenti. Oppure is, è un giorno lavorativo, è un giorno festivo, è un anno bisestile, che è una sorta, gli is sono una sorta di getter dove la risposta è booleana. Sì, no, mentre un get mi restisce un valore. Cioè tra i metodi di get e i metodi di is, io posso interrogare tutto ciò che mi interessa di un determinato date o time. Poi ho gli ultimi metodi che sono invece di creazione di nuovi oggetti, a partire d'oggetti esistenti, quindi crea un nuovo oggetto modificando un oggetto esistente. Il padrone di tutti questi è with, che prende un oggetto e me ne dà uno nuovo con, with, una certa modifica. E with ovviamente avrà bisogno di un modificatore che definisca qual è la regola di modifica da applicare. E con questo with posso prendere le date e manipolarle come voglio. Poi ci sono alcuni casi particolari di modificatori che sono i modificatori aritmetici tipo plus e minus, che se vogliamo logicamente ricadono come caso generale sotto il with. con la differenza che plus aggiunge una certa quantità di tempo o sottrae nel caso del minus una certa quantità di tempo e anche qua avrò vari tipi di modificatori, aggiungi secondi, aggiungi ore, aggiungi anni o cose del genere. Però sono tutti, questi tre metodi, sono tutti sotto il cappello di modificatore di oggetti esistenti. Adesso modificatore in realtà è una parola sbagliata, perché io non sto modificando quell'oggetto, sto creando un altro oggetto in qualche modo modificandone una copia, sto creando una copia modificata. Quello che dice la documentazione è che il metodo with per un oggetto immutabile ha lo stesso ruolo che un metodo set ha su un oggetto normale, cioè cambia un qualche campo, solo che non cambia l'oggetto originario ma restituisce un oggetto nuovo. Poi ci sono i metodi un pochino più particolari tipo il metodo to, che converte un oggetto a un tipo diverso. to local date, to year, quindi dato un oggetto restituisce, la differenza del get che mi dà i componenti essenziali, mi dà la data ma come numero, mi dà l'anno come numero, to year mi dà l'oggetto year che rappresenta quell'anno. Quindi anziché fare una sorta di cast per convertire un tipo di dato in un altro, uso il metodo to, in realtà ho due modi, posso creare un nuovo year from la data, oppure prendo la data punto to year, ho vari modi per convertire, mi serve per convertire i vari oggetti tra di loro, ovviamente alcuni tipi di conversioni perdono informazione, chiaro. At è un metodo che mi serve, se io ho una data e un'ora, creare, li combino insieme, ottengo il date time di quella data, at quell'ora, cioè il 29 maggio alle 10.30. Questi corso modi sono una famiglia di metodi che ci aspettiamo, tutti questi provate a moltiplicarli per i tipi di oggetti che abbiamo visto prima e in alcuni casi ogni oggetto ha vari metodi tipo to o tipo from per tutti gli altri tipi di oggetti e vedete che effettivamente viene una bella famiglia di operatori con cui possiamo giocare e convertire, di cui quelli complicati sono il with, ovviamente, perché sono quelli che effettivamente fanno delle operazioni. Allora, proviamo a vedere alcuni esempi di codice. Allora, un metodo che giusto per eccezione non era nella tabella precedente, è un altro metodo statico che si chiama now, che costruisce un nuovo oggetto sulla data di oggi, sull'istante, scusate, questo è un local date time, quindi c'è anche l'ora, data e ora di oggi. Quindi corrisponde al new date o corrisponde al calendar.get instance, dammi un oggetto inizializzato sull'istante attuale. Qui è un pochino più evidente il fatto che c'è .now e quindi voglio l'istante attuale. Qui non posso creare un oggetto senza dargli il valore, senza dire a che data deve essere impostato, non c'è una data di default. E questo è l'oggetto di partenza. Dopodiché, oppure posso crearlo a partire dai componenti, dicevamo il metodo of, anno, mese, giorno. Il mese lo posso indicare col numero, oppure posso trovare una delle costanti che sono definite, ad esempio, all'interno di month. month è sia un tipo di dato che contiene, ma all'interno contiene anche un'enumerazione con i vari tipi di costanti che ci possono servire. Quindi creo la data di oggi, creo una data specifica e poi una volta che ho creato un oggetto lo posso interrogare. Questi, ad esempio, per il caso del date time, sono i vari tipi di getter che posso avere. giorno del mese, giorno della settimana, giorno dell'anno, che è il numero di giorni che sono passati dal primo gennaio, l'ora, minuti, secondi, il mese come oggetto, month, il mese come numero, nanosecondi, secondi, anni e così via. Poi, in qualche modo, sono simili ai metodi che già avevamo visto sulla classe calendar. ovviamente questi sono quelli di local date time, local date avrà solamente quelli relativi al mese, all'anno e al giorno, local time avrà solamente quelli relativi a ore, minuti, secondi, per coerenza. Il tempo macchina, il tempo macchina è rappresentato dalla classe instant. La classe instant fa il tempo macchina uguale agli altri, cioè il numero di, il tempo passato del primo gennaio del 1970. La differenza è che parla in nanosecondi anziché in millesecondi. Quindi ha una risoluzione, teoricamente, perché poi non è detto che poi l'orologio della macchina sia in grado di misurare in nanosecondi, teoricamente un milione di volte è più preciso di un date, perché da millisecondi, millimicronano, ho sei ordini di grandezza. Come dicevo, non è detto che io sia capace di misurare quell'intervallo di tempo, ma magari posso voler fare i calcoli, ho dei risultati di esperimenti di cui leggo il tempo e devo elaborare qualche cosa, lo posso fare con la precisione del nanosecondo in questo caso. Ovviamente è un tempo macchina, quindi lui ragiona solamente come numero intero, se voglio farci l'operazione lo devo convertire in un oggetto tempo umano. Come? Beh, ad esempio usando il costruttore of, differente tra of e from, che of è esatto e from prende solamente un sotto insieme. Of, quando io ho un istante e voglio avere un local date time, è una conversione esatta. Quindi posso creare un local date time, deal corrispondente a un certo istante di tempo. Questa conversione qua però richiede la conoscenza della fuso orario, perché il tempo instant è UTC, è neutro rispetto al fuso orario, è un tempo assoluto, non è un tempo locale. Un local date time è il tempo nel fuso orario italiano. Allora, se ho l'istante di tempo e voglio sapere che ora è, o anche che data è, devo dirti in che fuso orario mi trovo, perché tu mi possa convertire il tempo assoluto in un tempo locale. Questo dettaglio, se ci pensate, in calendar non c'era. Io là potevo convertire, in realtà avevo solo il tempo assoluto che era memorizzato dentro, lo interrogavo come se fosse tempo locale, il fuso orario come era gestito, in modo opaco, non si sa bene come. Invece qua è esplicito, deve essere esplicito. Se io voglio fare la conversione tenendo conto del fuso orario system default, quello che è installato su questo computer, quando avete configurato il computer vi ha chiesto in che fuso orario ti trovi, tu ne hai dato uno. Allora questo è, quello di default ti restituisce quello, quello configurato a livello di sistema operativo. Se invece ne vuoi usare un altro, vabbè, prendi la zona ID, punto, quello che vuoi tu, punto il fuso orario che ti interessa. Ok, quindi, un dettaglio su cui non ci eravamo soffermati, la relazione tra tempo e istante, cioè tempo macchina e tempo umano, non può prescindere dalla conoscenza del fuso orario. Senza sapere il fuso orario non posso parlare di data, non posso parlare di ora. Poi magari non lo uso il fuso orario, perché faccio tutte le mie elaborazioni sulla singola fuso orario locale. Però anche prendere la 10.33 del 29 maggio e dire che istante di tempo è, anche quello mi serve il fuso orario per sapere, ok, 10.33 è il tempo locale, il tempo UTC qual è? Qual è il tempo UTC adesso? Adesso siamo due ore avanti, quindi il tempo UTC sarebbe le 8.33, un'ora perché il nostro fuso orario è un'ora avanti e un'altra ora perché siamo sotto l'ora legale. Quindi per avere il numerino long che rappresenta l'istante di tempo vero, devo prendere il tempo locale e sottrarre due ore e a quel punto puoi convertire. Quindi quella informazione è un'informazione che non ci piace ma ci serve. Ok, sulla conversione tra stringhe, a differenza di date che ha questa classe formatter separata, qui ogni oggetto ha un suo metodo parse e un suo metodo format, che per default lavorano col metodo ISO, cioè col formato ISO quello che abbiamo visto, ISO 8601. Se non dico nulla allora si aspettano di parsificare date in quel formato e generano in uscita date in quel formato. Ovviamente se voglio posso personalizzare il formato stringa nel parsing e nel formatting usando una classe che si chiama date time formatter. Posso crearmela anche qua a definire tutta la personalizzazione che voglio ma nella maggior parte dei casi userò uno dei formatter che sono già predefiniti, ce ne sono tanti predefiniti in libreria. Ad esempio questi, posso avere un formatter che si chiama, è una classe date time formatter.oflocalizeddate oppure .oflocalizedtime oppure oflocalizeddatetime. Quindi innanzitutto al formatter dico magari tu vuoi formattarmi solo la data, solo l'ora oppure sia data che ora. E poi per ciascuno di questi dico qual è il formato in cui voglio la data e il formato in cui voglio l'ora. Che sono questi parametri date style e time style. E vedete che ci sono tutte le varianti dell'ISO con o senza i vari campi, con o senza i vari dettagli, che sono già predefiniti con questi formatatori. Quindi se io voglio stampare una data in questo formato, semplicemente farò date.format e poi come parametro gli metterò date time formatter.oflocalizeddate tra parentesi ISO local date ad esempio. No questo è ISO local date eccolo qua. E mi dà la data in questo formato. Questo per quanto riguarda i formati, vabbè qui c'era già l'esempio. Qui c'è il formatter.format, la data che era un tipo date. Ci sono vari modi di chiamare questo formatatore. Oppure se voglio, lo so che questo non è molto leggibile da questa distanza, ma poi nella slide la potete guardare, c'è così come c'era già su calendar la possibilità di costruirmi, su simple date format della classe date, c'è anche qua la possibilità di crearmi il mio formatter a piacere usando quei simbolini, ad esempio per costruire anno, mese, giorno, separati da spazio, mi costruisco un nuovo formatter partendo da un pattern, vedete che sempre per costruire non c'è mai new date time formatter. È una classe date time formatter di questo che è in grado di leggere, di trattare questo pattern. E a questo punto una volta che ho il formatter, il metodo pars o il metodo format, poi ricevono come parametro questo formatter e posso ottenerlo. E così via. Quindi da qua posso fare tutte le operazioni che voglio, imparandosi un po' quali sono questi formatter predefiniti, ma tenete presente che se non faccio nulla, questo è già un metodo avanzato, se non faccio nulla io posso già direttamente chiamare parse e format su tutti gli oggetti usando, se mi va bene, le sintassi ISO. Poi vedremo che in JavaFX in realtà è ancora più semplice perché c'è un oggetto calendar che già mi dà un local date, proprio di un'interfaccia grafica e quindi non devo neanche fare il parse. Ok. Dicevamo, vabbè, creo con ov oppure from, interrogo con get oppure is, modifico con with, parsifico con i formatter, i parse e i format e modifico con with. Quindi sulla parte aritmetica avviene attraverso il metodo with oppure le sue personalizzazioni plus e minus e questo metodo with riceve come criterio con cui deve modificare questo dato una classe temporal jaster. Quindi la logica è la stessa del parse e del format. Ho un metodo parse e un metodo format che però per capire come lavorano usano un date formatter, o un date time formatter, secondo me. Qua è la stessa cosa, io ho un metodo with che per sapere come lavorare, quindi che modifica fare sull'oggetto, riceve un altro oggetto temporal jaster e di temporal jaster ce ne sono predefiniti parecchi. Questi sono tutti esempi di operazioni già predefinite. Viene prima, viene dopo, è uguale, sottraio una certa quantità di tempo, questo è minus e plus ovviamente, sono gli stessi in qualche modo che avevamo già su calendar, ma poi ci sono quei più dettagliati, meno giorni, meno minuti, meno mesi, nanosecondi, secondi, settimane, anni o plus della stessa cosa. Queste sono tutte forme già predefinite, cortocircuitate di temporal jaster. Addirittura non uso neppure il metodo generale with, ma un metodo personalizzato, punto, minus days, per brevità proprio di scrittura. Posso anche creare, eccoli qua, è questa la data che stavo cercando, i temporal jaster generici sono questi, adesso primo giorno del mese, primo giorno del mese successivo, primo giorno del prossimo anno, primo giorno dell'anno corrente, mi permettono di spostarmi, cosa è difficile? Non è difficile andare avanti i tre giorni, è difficile andare avanti o indietro allineandomi con unità temporali che sono il mese, la settimana e l'anno, perché sono irregolari quelle, capitano quando capitano e non in modo uniforme lungo il calendario. Allora, questi temporal jaster effettivamente fanno questo lavoro qua. Day or week in month, cioè il primo, cosa mi fa? mi sono il problema del terzo giovedì del mese. Day or week, giovedì, ordinal, il terzo del mese corrente. Quindi se voglio vedere qual è il terzo giovedì del prossimo mese, farò first day or next month, punto, day or week in month, 3 virgola Wednesday, day or week punto Wednesday. Quindi se devo fare delle modifiche sulle date, della operazione con le date, cerchiamo sempre di pensare a qual è l'operazione che vogliamo fare, diciamo così in astratto, usando questi operatori un pochino più astratti e cerchiamo di non pensare mai al numerino, al numerino che è il giorno, al numerino che è il mese, perché altrimenti siamo sicuri di incasinarci, di dimenticare qualche caso, eccetera. Il prossimo giovedì, next day or week, next or same, adesso quando uno dice il prossimo lunedì, ho visto che oggi è lunedì, conta questo o conta lunedì della settimana prossima? Allora qui ho due metodi diversi, il primo next che conta il prossimo, next or same conta il prossimo, ma se è già lunedì va già bene oggi. Una certa cosa si fa alla posta, la puoi paragrare solamente a lunedì, ma se è oggi lunedì va già bene oggi. Dimmi qual è la prima data possibile, è il prossimo giorno, compreso oggi, in cui cade quel giorno della settimana, e idem con previous. Quindi abbiamo tutti questi metodi, poi ce ne sono altri, ma quelli principali sono quelli che mi permettono di spostarmi avanti e indietro nelle settimane e nei mesi, essenzialmente, poi negli anni è più facile, basta fare un plus years. Qui ci sono poi alcuni esempi che prende una data, una data del 15 ottobre 2000, localdate.ov, anno, mese, giorno. Un get interroga questa data, dimmi qual è il mese, in che giorno della settimana accade. Ricordate l'esempio che facevamo prima, per sapere qual è il giorno della settimana di determinata data, dovevo fare col date, prendere, costruisco la stringa, parsifico, converto da date a calendar, poi da calendar la formatto, urlando solamente il dato, poi la rifaccio un parsint, erano 6 operazioni. Qua semplicemente creo l'oggetto e lo interrogo, fine. E qui ho dei numeri, non ho mai delle stringhe da parsificare o formattare. E poi da questa data la posso spostare, quindi il primo giorno del mese, il primo lunedì del mese, l'ultimo giorno del mese, il primo giorno del mese successivo e così via, vedete che se ho questa operazione qua, dal punto di vista del codice, prendo l'oggetto date, punto width e come parametro ho il temporal adjuster. Poi l'altra cosa che posso fare con questi oggetti, anche se questo non lo approfondiamo molto perché è di più limitata utilità per noi, per il tipo di adjuster che faremo, è quello di ragionare sulle differenze, sulla distanza. Anche qua c'è differenza tra una distanza, un intervallo di tempo misurato in tempo macchina o in tempo umano. Perché guardate il secondo punto, se io ho degli istanti di tempo, che sono dei numeri in nanosecondi, la loro distanza è facilissima, faccio la differenza tra questi nanosecondi e infatti mi dà un oggetto che praticamente posso rappresentare in nanosecondi. Poi lui a livello astratto ha un oggetto che si chiama duration, l'oggetto duration rappresenta un intervallo di nanosecondi, la differenza tra due istanti. Quindi l'intervallo di tempo visto come tempo macchina è rappresentato dall'oggetto duration, mentre invece visto come tempo umano è rappresentato dall'oggetto period. Sono due oggetti diversi perché poi il period lo posso interrogare chiedendo quanti mesi sono passati, quanti anni sono passati, quanti giorni, cosa che invece duration mi dà solamente al massimo quanti nanosecondi sono passati. Quindi per questo, così come abbiamo instant da una parte e poi tutte le altre classi temporali, date, time, eccetera, dall'altra, anche per quanto riguarda la differenza tra tempi, avrò duration se faccio i conti con gli istanti, quindi da un istante al chom una durata, sottraggo due istanti e ottengo la distanza. Dall'altra parte invece se faccio calcoli, devo fare dei calcoli con le distanze tra date o tra ore, quindi tra valori temporali umani, userò la classe period. Entrambi hanno un metodo between, ma ovviamente il tipo di oggetto che restituiscono è di tipo diverso. Oppure un altro metodo di nuovo, che è indicato per primo qua sulla slide, che è una scorciatoia rispetto a ciò che posso fare con period, risponde a una domanda abbastanza frequente, quanti mesi mancano? Quanti giorni mancano alla fine della scuola? Quanti settimane mancano alla fine dei corsi? Quanti giorni mancano al mio compleanno? Allora in questo caso hai un oggetto, hai un obiettivo, l'end, punto d'arrivo, e vuoi sapere quanto manca until, fino a quella data, espresso in una certa unità di tempo. Quindi posso fare today, punto until, il mio compleanno, virgola, days, giorni. Quindi ti dico, l'oggetto di partenza, che mi rappresenta un istante di tempo, un'unità umana, il tempo d'arrivo e l'unità di misura in cui voglio che sia specificato il risultato. Quindi ci pensa lui a fare tutte le conversioni, perché sapete che chiedere a quanti giorni e quante settimane non è la stessa cosa, non basta moltiplicarlo e dividere per 7, perché dipende da che giorno e settimana siamo adesso, che giorno e settimana accade la data che ci interessa, quindi c'è sempre un più o meno 1, più o meno sì, basta dividere per 7, ma poi c'è quel più o meno 1 che ci fa sempre sbagliare. Quindi diciamo, anziché chiedere un dato in secondi o in giorni e poi dopo convertircelo noi a mano, dividendo per 60, moltiplicando per 7 o gestendo le varie unità di misura, diciamo subito qual è l'unità di misura in cui lo vogliamo e lui ovviamente mi darà il numero di unità di misura, mesi, settimane, giorni, interi che ci stanno dalla data corrente, non corrente oggi, corrente che gli passo come oggetto, che è l'oggetto su cui chiamo il metodo Antil, alla data destinazione. Quindi in questo caso anche qua ci semplifica parecchio la vita. Ovviamente si può fare tutto usando gli oggetti del package java.time, però avremo a che fare purtroppo a volte con oggetti vecchi, codici scritti da altri oppure librerie che non sono ancora state aggiornate per usare i nuovi oggetti. Quindi come faccio a convertire eventuali, se un oggetto date a convertirlo in local date o local date time? In realtà l'oggetto più simile a calendar sarebbe local date time, perché sappiamo che in un date o in un calendar non c'è solo la data, c'è tutto, data, ora, minuti, secondi. Allora questi metodi quando hanno introdotto nella java.8 il package java.time hanno aggiunto dei metodi alle classi vecchie, per permettere alle classi vecchie di interoperare, se interoperabili con quelle attuali. Ad esempio la classe calendar.to.instant mi permette di convertire un oggetto calendar in un date time, oppure in un instant, quindi un tempo macchina, oppure in un date time, zone date time, perché ovviamente si porta dietro anche il fuso orario, che calendar ha, ma sottointeso, mentre zone date time è esplicito. Oppure ho l'operazione inversa, se io ho un oggetto zone date time, posso creare un oggetto calendar corrispondente. E la stessa cosa, un pochino è più povera, perché date è più stupido, ha meno informazioni, anche con l'oggetto date. Quindi se ho un instant posso creare un date, se ho un date posso creare un instant. E qua non posso invece avere date time direttamente sull'oggetto date, perché date non avendo la nozione di fuso orario la conversione sarebbe arbitraria. Quindi non potrebbe aver senso. Qui si ribadisce, diciamo così, che i tipi dati vecchi sono degli stanti. Cioè di fatto il supporto al tempo umano era abbastanza fittizio in date e in calendar. Infatti vedete che i metodi di conversione primari sono tu e from instant sempre, tempo macchina. Dopodiché una volta che ho il tempo macchina in java time, in java.8, java.8 posso poi convertire in local date, in local time, estrarre ciò che mi serve, faccio un from per estrarre il tipo di oggetto che mi serve. Quindi questo è un po' il riassunto dei riassunti su queste classi. Allora, se potessimo, potremmo lavorare sempre su classi java.8 e eventualmente quelle poche volte in cui siamo obbligati a toccare, generare o usare classi vecchie, calendar o date, usiamo, andiamo a prenderci questa slide e andiamo a vedere come si fa a convertire. Adesso la complicazione arriva quando abbiamo tra i piedi anche SQL, perché le tipiche applicazioni che facciamo noi tipicamente hanno sotto un database. Allora, chiediamoci un attimo, ma di tutto questo discorso che abbiamo fatto bellissimo in java.8, a livello di database, come vengono rappresentati data e ora? E in realtà la domanda a livello di database, come vengono rappresentati data e ora, sono in realtà tre domande. Uno, che cosa dice lo standard SQL? Due, che cosa implementa MariaDB o MySQL, che dir si voglia? Tre, come mi fa vedere queste cose JDBC, il driver JDBC, che è ancora una cosa di mezzo, è ancora una cosa separata. Allora, in SQL standard, ufficiale, questi sono i principali, poi ci sono altri, più di nicchia, tipi di dato per rappresentare vari valori temporali. Quindi in una tabella posso avere una colonna di tipo date, che mi rappresenta una data senza orario, oppure una colonna di tipo time, che mi rappresenta un orario senza data, con unità di misura di 100 nanosecondi, tanto per non farci mancare niente, oppure una colonna di tipo timestamp, che è la combinazione di una data e un'ora. Poi, di tutte queste tre, può esserci la variante with time zone, cioè la variante di date con anche esplicita l'informazione sul fuso orario. Altrimenti queste date sono date da intendersi, boh, o date locali o date UTC a seconda di come le leggiamo noi, come le pensiamo noi, perché non c'è scritto quale è il fuso orario corrispondente. Se no potrei avere un proprio create table, aggiungere una colonna col tipo time with time zone. Quindi ho tre tipologie moltiplicate per due, perché possono essere con o senza time zone. Questo è ciò che c'è scritto sulla versione antica dello standard SQL. Invece MySQL. Prendete MySQL e andate a vedere sul capitolo della documentazione quando vi parla di data e ora, vi dice, puoi avere un tipo date, qui una colonna di tipo date, che ha la data senza time, in formato anno, mese e giorno. Questo corrisponde allo standard, abbastanza. Con un range strano di date, perché vanno dal 1 gennaio dell'anno 1000 al 31 dicembre 1999, perché hanno deciso che 4 cifre per l'anno bastavano. Questo è ciò che supporta MySQL nel campo date. Fino a questo qua, tutto sommato, a parte il discorso dell'anno 1000 che gli storici potrebbero storcere il naso. Poi c'è un tipo date time che non c'è nello standard, ma MySQL se lo inventa, perché sì, che contiene data e ora in formato anno, mese e giorno, ore, minuti e secondi, che non è formato ISO, perché nel formato ISO qua in mezzo c'è una T, qui non c'è la T, c'è lo spazio, ma vabbè, se vogliamo è un peccato veniale. Questo date time somiglia al time stamp dello standard ISO. Ma MySQL è anche un tipo time stamp, che però è diverso, perché in realtà il tipo time stamp è un tipo che mi mette in bella un tempo macchina, cioè è un valore che contiene sia data che ora, ma il range va dal 1 gennaio del 1970 al 0001 tra l'altro, non 00, non picchiatemi, non l'ho scelto io, fino al 2038, ricordate che dicevo il 2038 è il giorno in cui il tempo Unix ha 32 bit in overflow. Questo è il range di valori, quindi il time stamp in realtà rappresenta un tempo macchina, espresso con la convenzione, con l'epoca Unix e 32 bit. Quindi su intervalli, su date diciamo così contemporanee, date time e timestamp si comportano in modo simile, con la differenza che date time ha la risoluzione del secondo e invece timestamp ce l'ha del millisecondo, ma non c'è nella rappresentazione stringa che devono andare a fare una chiamata apposta per restare i millisecondi. Però questa dualità, sono due tipi di dati diversi che si somigliano molto, come range della rappresentazione sono diversi, quindi bisogna fare attenzione. C'è poi addirittura un automatismo all'interno di MySQL, che fa più male che bene, che permette se tu hai una colonna di tipo timestamp, di inizializzarla automaticamente quando tu aggiungi una nuova riga, che questa colonna si inizializza automaticamente all'ora corrente. Questo può essere comodo, perché alla fine dentro le tabelle MySQL hai una colonna che si ricorda quando hai inserito quel record, senza che tu lo debba inserire manualmente, senza che il programma debba preoccuparsi di aggiungere quella data. Quello è comodo per averlo, solo che non è standard, funziona solo su MySQL e si può specificare come valore default di una colonna, però lavora su timestamp principalmente. Poi questo timestamp può essere memorizzato in una colonna di time, perché tanto ovviamente di time ha un range più ampio. Questo era le date, data e di time, e timestamp. Poi c'è ancora in MySQL una variabile time, formato ora a minuti e secondi, che somiglia allo standard, tranne che per il range di valori che non va da 0,24, ma va da meno 800 a più 800. Perché? Ma perché quella colonna time la posso usare per due scopi diversi. Uno è per memorizzare l'ora del giorno, allora andrà da 0,23. Ma l'altro potrebbe essere per memorizzare un intervallo di tempo. Quella lavorazione è durata 127 ore. Lo stesso tipo di dato, lo che posso usarlo in due modi diversi. E poi ho ancora un altro tipo di dato in MySQL che si chiama year, anno, che è malato, è una data che contiene solamente l'anno. È come se fosse un intero, un intero breve in cui metto un anno su quattro cifre. Ma se io provo a inserire un numero tra 0 e 69, se inserisco 2017 va bene, ma se inserisco 17 lui lo converte automaticamente in 2017. Se inserisco 80 lo converte automaticamente in 1980. Questo è uno delle pezze che sono state emesse per gestire la transizione da anni rappresentati su due cifre a anni rappresentati su quattro cifre, nell'epoca del problema sull'anno 2000, quando molti programmi la data la memorizzavano solo su due cifre. 17. Cosa era rappresentante 17? E lì c'era il problema che a seconda di come scrivevi il programma, se abbreviavi l'anno come 17, poteva rappresentare il 1917 o il 2017. Allora MySQL ha detto, mettiamo un punto di taglio, l'anno 1970. Quindi le date abbreviate usando solamente due cifre rappresentano gli anni tra il 1970 e il 2069. Quel range lì si può rappresentare con due cifre e internamente viene convertito. Se invece vuoi una qualunque data la scrivi su quattro cifre, come Dio comanda, come sempre bisognerebbe fare, date su due cifre. Per fortuna dopo il 2000 praticamente non si scrivono più, è molto raro che uno non scriva la data per estero ad oggi, almeno se ha vissuto quel periodo. Però MySQL dentro ha ancora questa regola, che ovviamente comincia a invecchiare questa regola qua, perché diciamo così che comincia a essere quasi più vicino al 2070 che al 1970. Quindi uno si chiede che senso abbia aver cablato quella… però è servito un determinato momento storico. Il mio consiglio sarebbe di non usare questo tipo di dato se non siamo proprio obbligati a farlo. La domanda che potrebbe solo dire ma scusa ma se io voglio rappresentare l'anno 50 d.C., non posso perché ricordiamoci che gli anni vanno dall'anno 1000 in avanti. Non è proprio lo standard che mi dice che non mi mette questi limiti sulle date. Questo è ciò che fa MySQL, ma noi MySQL non lo tocchiamo mai perché nel nostro programma le date o i valori che ci sono nel database e li vediamo solo sempre attraverso ciò che fa il driver jdbc. Allora se è una stringa .get string, se è una colonna di tipo intero .get int o get double se è reale e se è data, se è una colonna di tipo data cosa vedo quando inserisco e quando leggo? Allora la documentazione del connector j, perché poi è lui che fa il lavoro, MySQL connector, è lui che fa il lavoro di tradurre ciò che arriva dal database in un oggetto leggibile a Java. Questo connettore mi restituisce dei tipi di dato nel standard di java.sql, il packet jdbc java.sql, .date o java.sql time, oppure java.sql timestamp. Quindi la libreria jdbc dentro java.sql definisce tre tipi di dato, non avevamo abbastanza di date e calendar, ce ne sono altri tre che si chiamano date di nuovo, ma è un date diverso, non è java.util.date ma java.sql date, poi c'è un time e poi c'è un timestamp in java.sql. Tutti e tre sono sottoclassi di java.util.date. Quindi hanno preso la cosa più brutta che avevano e hanno detto usiamo questa e hanno fatto le sottoclassi date, time e timestamp. Cosa è java.sql date? Beh, è un oggetto che dovrebbe rappresentare una data, java, un campo sql date. Campo sql date ha anno, mese, giorno. java.sql date cosa fa? Dentro, implementa un date, un java.util.date mettendo a zero ore, minuti, secondi. Forzando a zero ore, minuti, secondi, perché visto un date ricordiamoci che è un istante di tempo. quindi forza a zero normalizza in qualche modo ore, minuti, secondi di questo date. Quando lo leggi dal database lo mette a zero. Il contrario fa java.sql time che crea un oggetto date, il time è solamente come l'ora, 10 e 11.02, lui ti crea un oggetto date sottostante da cui è derivato a sql.time che rappresenta le 11.02 del primo gennaio 1970. Quindi trasla quell'orario, visto che la data la deve mettere per forza, la mette sul primo gennaio 1970, cioè il giorno dell'inizio del tempo Unix. Ovviamente sono sottoclassi di date e quindi hanno tutti i metodi che ha date. Dobbiamo però fare attenzione che sappiamo che hanno solamente questi campi messi a zero in modo artificioso. Oppure nel caso del timestamp, qual è la differenza tra il timestamp standard e il timestamp di MySQL? Che il timestamp standard radionava in secondi, quello di MySQL in millisecondi. E quindi ho l'oggetto timestamp che in realtà all'interno ha un date, ma anche un valore a parte espresso in nanosecondi. E quindi ho due metodi get, un get date e un get nano. Se mi serve, non li posso avere come oggetto unico perché date non supporta quella risoluzione, il date di java.util e quindi ho bisogno di tenere separati i due oggetti. Quindi un po' un tentativo di adattare l'oggetto date, che sappiamo non brilla per intelligenza, ha la semantica di SQL, del tipo di dati che ti trovi in SQL. Quindi cosa puoi fare? Se io ho una colonna di tipo date, farò in java farò get date e mi restituisce un java SQL date. Da java SQL date se voglio posso passare a java.util.date e da java.util.date posso passare a instant e da qui posso passare a local.date volendo. Se ho una colonna di tipo date time, lui tendenzialmente mi restituisce un timestamp, sia nel caso di date time che in caso di colonna di tipo timestamp. Se ho una colonna di tipo time, mi restituisce java.sql.time. Queste sono le conversioni automa predefinite all'interno del connector di MySQL. Noi questi oggetti non li possiamo scegliere, sono così, JDBC me li dà così. Noi l'unica cosa che possiamo fare è farli sparire il prima possibile e quindi convertirli in oggetti java time il prima possibile. Nell'oggetto java time giusto. Allora, io ho provato a fare una tabellina di conversione. Noi abbiamo questi tipi local date e instant che sono i tipi java 8 di java.time, che sono i tipi di dato con cui vorremmo lavorare. A destra invece abbiamo date, intesa come java.util.date o come java.sql.date e timestamp, che sono questi. Non mi stava nella figura anche la parte di local time e time, ma il ragionamento è lo stesso. Allora, quali sono le conversioni che vogliamo fare? Queste frecce qua riassumono le conversioni che vorremmo fare. Quando leggiamo i dati del database andiamo da destra verso sinistra nella slide. Quindi abbiamo in mano, faccio un get degli oggetti date o timestamp e li voglio trasformare in local date o instant. Se invece scrivo nel database, molto probabilmente farò l'operazione inversa. Oggetti local date o install perché lavoro comodo con quelli, ma prima di inserire nel database dovrò convertirli in date o timestamp per poter fare il set nello statement SQL. Set date ha bisogno di un oggetto di tipo date, non un oggetto di tipo local date. Allora, per far questo ripassiamo quali sono i metodi che abbiamo a disposizione. Allora, poiché java.sql date e timestamp ereditano da date e date è stata modificata in java.util date, è stata modificata da java.8 aggiungendo dei metodi, questi metodi ci ritroviamo anche in java.sql. Per cui java.sql date ha un metodo, ha due metodi, toLocalDate e valueOf. ToLocalDate cosa fa? Prende un date e lo converte in local date. Quindi da date a local date, questa freccia qua sotto. Viceversa, se ho un local date e lo voglio tradurre in date, ho un metodo statico, quindi sarà java.sql.date.valueOf, tra parentesi gli metto il local date e mi restituisce il date che mi serve. Quindi queste due frecce, da local date a date e da local date, me le cavo con questi due metodi di date. Da notare quello che hanno fatto i progettisti di java.8, hanno detto che per convertire da java.8 a oggetti vecchi, non c'è nessun metodo in java.8 che ti restituisca un oggetto date, perché puzza. Allora la libreria java.time non ha nessuna dipendenza sulla libreria vecchia, hanno aggiunto dei metodi nella libreria vecchia per convertire su quella nuova e non c'è nessun metodo nella libreria nuova che usi ancora neanche lontanamente gli oggetti vecchi. quindi non devo andare a cercare nella libreria java.tai. Per quanto riguarda invece timestamp, se lavoro su, se ho anche ore, minuti, secondi e non solamente date, ho una cosa analoga, un pochino più ricca nel senso che l'oggetto timestamp può essere convertito avanti e indietro o su local date o su instant, a seconda di come me lo voglio gestire al termine del programma. Quindi nel caso del timestamp ho un metodo statico di java.sql timestamp from instant che mi crea un nuovo oggetto da instant, quindi questa freccia qua, da instant a timestamp. La seconda è il to instant e da timestamp a instant. E poi la stessa cosa, to local date time, quindi da timestamp a local date, in questo caso local date time, non local date ovviamente perché un timestamp ha anche una componente oraria, e poi la stessa cosa da local date timestamp. Quindi questo schemino ci riassume tutte le conversioni possibili che possiamo fare. quindi questo schemino con quello che abbiamo visto prima sulle conversioni da java 7 e java 8 ci permettono di collegare i vari tipi di rappresentazione delle date, java 7, fino a 7, quindi date e calendar, java 8, local date e amici, sql che sono queste tre classi, java.sql, time date e timestamp. Allora vediamolo in pratica, no? Un po' praticamente come lavoreremo. Allora per farlo io prendo un esempio di un dataset con cui lavoreremo che è qua, ovviamente, che è quello che nella sezione datasets è chiamato by sharing. Adesso vi faccio vedere com'è fatto, però se volete potete scaricare da qua. Adesso ho visto che hanno rilasciato delle versioni nuove, quindi tra un po' aggiornerò questo database, ma per ora lavoreremo con questo, su cui faremo anche degli esercizi. Sono dei dati che sono stati rilasciati, B-A-B-S, B-A sta per Bay Area, che è la Bay Area di San Francisco, San Francisco in California, c'è l'area della Bay Area di San Francisco, che comprende varie città, San Francisco, Palo Alto, eccetera, eccetera, e B-S sta per bike sharing. Quindi c'è un'azienda che, poi se andate allo sito web la vedete, gestisce il bike sharing non all'interno della singola città, ma all'interno di tutta l'area della Bay Area. E questi signori avevano ovviamente dei dati sulle loro biciclette e li hanno messi a disposizione per fare, sia per distribuire come open data in forma anonimo, poi ci hanno anche fatto delle challenge sopra delle competizioni, perché vi diamo i dati, fateci vedere cosa sapete fare, hanno premiato chi ha fatto un'interfaccia più carina, cose di questo genere. Vabbè, ma parte quello, il database, almeno la parte che ci interessa, è molto semplice. Sono queste due tabelle, la prima tabella si chiama Station, che contiene l'elenco delle stazioni di bike sharing. Quindi c'è una stazione, un ID, ha un nome, una coordinata geografica, doc count, quante biciclette ci stanno in quella stazione, a quale cittadina appartiene, e la data di installazione. Allora, oggi ci focalizziamo sulle date, la data di installazione qui è rappresentata come date. Vedete che se qua vado in ID mi fa vedere quali sono i tipi di dato supportati da MySQL, che sono quelli che abbiamo visto prima, in questo caso è un date. Biciclette. Poi ho un'altra tabella, che è quella più interessante, Trip, che rappresenta tutti i singoli viaggi che sono stati fatti con le biciclette condivide, prese a prestito. Allora, cos'è una trip? Ogni trip, ogni viaggio, ha un suo ID, che non ci interessa più di tanto, ha una durata, che non mi ricordo se è spessa in minuti o in secondi, ha una partenza e un arrivo. Allora, la partenza è data dalla data, stazione e terminale. Il terminal, se non sbaglio, è la stessa cosa della station ID, solo che l'ha chiamato terminal. Quindi dice che questa bicicletta è stata presa alle 9.08 del 29.08 2013, in questa stazione, che ha questo ID 64, ed è stata riconsegnata alle 9.11 del 29 agosto, nella stessa stazione. La presa 64, la riconsegno alla 64. E questo è il numero della bici. Poi c'è ancora un'altra colonna che interessa abbastanza poco, se chi ha preso questa bici c'era un abbonato, oppure uno che pagava solo sul momento. Quindi il subscriber del servizio, quindi aveva la tessera, oppure pagava la singola corsa. Si vede che lì c'è una modalità per prenderla in prestito solamente una volta, senza fare l'abbonamento. E questo, lo drill code, è l'area di residenza di chi ha preso la bicicletta. Questi ultimi due dati sono più sull'analisi dell'utenza e ci interessano abbastanza poco dal punto di vista dei movimenti. Allora, a livello di dato, cosa abbiamo? Abbiamo che la start date e la end date sono rappresentate in SQL come del daytime, perché giustamente hanno una componente data e una componente ora. A occhio direi che la precisione è del minuto, perché i secondi li vedo sempre a zero. Però questo non si può dire da nessuna parte, nel senso che non ho un tipo di dato che mi permette di rappresentare ore e minuti e non i secondi. E quindi mi tengo i secondi e li lascio a zero. Quindi in tutta la complessità che abbiamo c'è anche questo aspetto che non viene gestito. E poi ho il campo durata che qua è stato rappresentato semplicemente come intero, che dovrebbe essere la differenza tra le due date, dovrebbe, dovrebbe corrispondere, no? Abbastanza. Prendiamo il primo, abbiamo detto che l'hanno preso 9.08 e li ho consegnato le 9.11, sono 3 minuti. La durata sono 174 secondi, quindi è spesso in secondi questa roba. In realtà abbiamo la durata che ha la precisione del secondo, mentre l'orario di presa e di riconsegna ha la precisione del minuto, quindi ci sarà sempre nella durata uno scarto di 60 massimo, quindi la differenza, se io calcolo la durata del viaggio facendo la differenza tra le date, ottengo un valore che è diverso rispetto al numero di durata, perché questo è più preciso. Non chiedetemi perché non abbiano messo i secondi qua, visto che li avevano, però. E così via. Allora, immaginiamo di voler rappresentare questa roba qua in un programma che usi questi dati. Allora, i due punti in cui dobbiamo mettere le mani sono sicuramente dentro il model, cioè dobbiamo creare una classe che rappresenti questo trip e dentro un DAO che poi legga questi dati. Allora, proviamo a crearli, almeno imbastire, no? Queste cose. Allora, io qui mi ho creato un primo progetto vuoto, Babs, metteteci dentro le solite cose, il solito scheletto di progetto e proviamo a creare una classe dentro al package model che rappresenta i trip e un'altra che rappresenterà, come si chiamano le station. Allora, applichiamo l'ORM, Objective International Mapping, tendo conto anche di quello che sappiamo sulle date. Che campi ci sono? 3PD, Duration, Start Date, eccetera, eccetera. Allora, 3PD è un intero, private, int, id. Poi, secondo campo, Duration, è un intero, in secondi. Poi abbiamo Start Date, che è un Date Time. Allora, Date Time si mapperebbe in Java, secondo le drive gdbc, direttamente su un java.sql.timestamp, ma noi non vogliamo, noi preferiamo lavorare con un local date time, oppure un instant, però visto che ci sono giorni, mesi, anno, mi pare più comodo lavorare con local date time, chiaramente importato da java.time, che si chiamerà Start Date. Poi abbiamo la stazione di partenza. La stazione di partenza qui è rappresentata da due campi, una stringa e un intero. Allora, anche qua, come lo modelliamo all'interno del BIM? Può essere una modellazione di più di basso livello, in cui ci metto la stringa all'intero, oppure semplicemente riconosco che questa stringa e questo intero non sono altro che un modo per fare riferimento alla station. Quindi qua ci potrò mettere, forse meglio, un riferimento direttamente all'oggetto station. E quindi ora ovviamente devo caricarmi prima le stazioni, prima di caricare le trip, ma quando poi leggo le trip, la station non vado a rappresentare ogni volta il nome come stringa, lunga, poi devo confrontare le stringhe, ma un riferimento, avrò la mia identity map delle stazioni e vado a pescare la stazione che mi serve, partendo dall'ID. Quindi questi due campi in realtà sono ridondanti, se poi uno va a vedere come ha modellato il database, vede che star station non è altro che una chiave esterna sul nome della stazione e star terminal è una chiave esterna sull'ID della stazione. Quindi quei due campi in realtà vanno avanti in parallelo, sono ridondanti, qui potremmo semplicemente, per astare un pochino a questo oggetto, dire che questa è una station, start station. E la stessa cosa per punto d'arrivo, cioè quando e dove, sono due informazioni essenziali. Il quando è un local daytime, il dove è la station. e quindi anche per la partenza, vede che arrivo, scusate, end date, private station, end station. Altri campi, bike number, mettiamolo se ci dovessi servire, gli altri due evito di metterli perché direi che non mi servono. Bike number, hm? Questa è la modellazione che facciamo dell'oggetto, cercando di metterci dentro dei campi che che sono i più semplici possibili da gestire. E idem, all'interno di station, che in realtà è molto più semplice, avrò questi campi di cui la d'altra installazione, anche qua, visto che è date, la rappresenterò come local date. Quindi se faccio il mapping di questa tabella, avrò un private int id, che dite la stazione, il nome, poi avrò l'attitudine e la longitudine, meglio ancora, avevamo usato quella libreria già in un esercizio precedente che conteneva dentro sia l'attitudine che la longitudine e ci permetteva di fare i calcoli. Poi se non si chiamava lat-lng e quindi la chiamiamo, anziché lat-long, la chiamiamo posizione. poi abbiamo dock count, cioè quanti posti ci sono in quella stazione, landmark, che sarebbe la città in cui si trovano. questo lo metto come string per adesso, ma sarebbe tanto carino, visto che sono valori ripetuti, avere un oggetto landmark a parte o addirittura una tabella a parte nel database, perché non ha senso ripeterlo come string qua. Questo database non è particolarmente ben normalizzato. E poi l'installazione, che è una local date, perché non abbiamo una data ma non abbiamo l'ora. E vabbè, adesso devo portare questa libreria lat-long dall'altro progetto, ma ne facciamo con canna. Quindi, quando scegliamo noi di usare gli oggetti data e ora, usiamo questi tipi di dato. e quando dovessi da un DAO leggere questi dati, cosa posso fare? Cioè, se io faccio un BAPS DAO e dentro volessi avere il metodo che mi restituisce tutte le testazioni, tutti i trip, ad esempio, quindi avrò un public, lista di trip, list trips, list trip. Avrò il mio metodo, adesso qui il tempo passa, quindi non riusciamo a scriverlo completo. avrò la mia query, che sarà un select, diciamo asterisco from trip, ok? e poi dentro la query, quindi abbiamo tutto il nostro prepare statement, eccetera eccetera, puntini puntini, abbiamo il nostro while, no, result set.next, andiamo a estrarre il solito valore successivo e così via, no? Come facciamo sempre, avremo un list.add di un nuovo oggetto da aggiungere alla lista. Allora, questo nuovo oggetto ovviamente prende normalmente i valori, no? Quindi come primo, il costruttore non l'abbiamo ancora generato, ma sarà result set.getint.id e così via. Quando arrivo alla data, cosa devo fare? Allora, io ho un campo che si chiama start date, quindi farò un get date di start date, che è il nome della colonna. Questo get date mi restituirà un oggetto di tipo java.sql.date. Però il costruttore di trip vorrà un local date time. scusate, no, questo mi restituisce un java.sql.timestamp. Perché una data è un'ora, quindi non devo fare un get date, ma insieme un get timestamp. E poi lo voglio convertire in un local date time, perché il local date time è il tipo di dato che nel costruttore dovrò inserire. Allora, questo lo farò, andiamo a vedere la tabellina di conversione, mi dice che da un java.sql.timestamp, se vuoi un local date, puoi chiamare il metodo toLocalDateTime del timestamp stesso. Quindi su questo timestamp che ho ricevuto non lo uso, ma toLocalDateTime lo converto direttamente. E quindi questa espressione è già un oggetto di tipo local date time. Questo per dire che i tipi di data e tempi, data e ora vecchi, quindi quelli di java.sql o quelli di java.util, li confiniamo dentro il DAO. Il DAO non ne può fare a meno, perché JDBC ragiona ancora in quel modo. Ma tutti i metodi del DAO facciamo in modo che ricevano o restituiscano solamente valori già in Java 8. Quindi tutte le conversioni, queste tabelline di conversioni qua, dove le usiamo? Dentro i metodi del DAO. In tutto il resto del programma non ce n'è bisogno. E anche in interfaccia grafica. Vi accennavo prima che anche in interfaccia grafica, se vogliamo ad esempio inserire una data, in JavaFX c'è ad esempio questo elemento date picker che, adesso a parte la dimensione della finestra, in cui posso inserire una data ma ancora più comodamente posso scegliere da un calendario e lui già me la personalizza in italiano facendommelo scorrere eccetera eccetera. Ora, questo oggetto qua ovviamente si comporta come una casella di testo, ha un metodo getValue, ma questo metodo getValue mi restituisce un oggetto in Java, già un oggetto di tipo local date. Quindi noi se usiamo strumenti di questo genere non dovremo neppure dire all'utente inserisci la data in questo formato per favore e poi fare noi il parse e gestire gli errori di parse, ma gli diamo un calendario in cui l'utente è obbligato a inserire una data già automaticamente nel formato giusto. E già ci viene restituita direttamente al controller già sotto forma di local date time. Per fortuna JavaFX è nato già con Java 8 in mente e quindi supporta bene queste cose. Infatti vedete che tra parenti c'è scritto fx8 perché questo oggetto in Java 7 non esisteva ancora, non poteva esistere perché non esisteva ancora Java time. Quindi tra parenti vuol dire semplicemente da Java 8 in avanti. Quindi da adesso in avanti anche nelle simulazioni che faremo ci saranno dei dati temporali, ore, minuti, secondi che non sono solo il numero fittizio di minuti che usavamo nelle simulazioni precedenti, ma adesso abbiamo gli strumenti per poterli gestire in modo semplice senza dover impazzire su stack overflow, su frammenti di codice che non si capiscono. A domani! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!